Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati. Come affronto i momenti oscuri, difficili? A che cosa chiedo vita? Di cosa mi nutro veramente? Ecco alcune domande che ci porremo lungo il nostro percorso. Gesù continua a spiegare il senso della moltiplicazione dei pani e gli vuol aiutare a comprendere che il pane moltiplicato, così come la manna nel deserto durante l'esodo del popolo di Israele, simboleggiano lui stesso. Ma queste parole trovano opposizione, incomprensione. Gesù infatti parla di sé come pane disceso dal cielo e giudei mormorano dicendo costui non è forse Gesù il figlio di Giuseppe, ma di lui conosciamo il padre e la madre. Come può dunque dire sono disceso dal cielo? Ecco i giudei mormoravano perché non riuscivano a capire le parole di Gesù. Erano fermi a un livello umano, un piano logico-razionale molto limitato. Pensavano di poterle racchiudere nel loro semplice comprendonio, di poterle capire senza un cuore disponibile, aperto a lui. Gesù invece con la sua risposta sposta i suoi interlocutori dal piano del semplice capire a quello della relazione. Non mormorate tra voi, nessuno può venire a me se non lo attira il padre che mi ha mandato. Sta scritto nei profeti e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il padre e ha imparato da lui viene a me. Gesù stoppa la mormorazione, questo rimuginio incredulo che occupa la mente e logora il cuore, e invita ad aprirsi al padre, alla sua attrazione, dicendo che c'è un'istruzione che Dio opera nel cuore di coloro che credono, che si lasciano attirare da lui. Mie cari, detto in modo semplice, se uno non ha un cuore aperto alla grazia non va da nessuna parte, non si può cogliere il senso profondo e la portata esistenziale delle parole di Gesù. Solo se ci si lascia attirare da Dio, solo se si apre il cuore alla fede in lui, le parole di Gesù acquisiscono un significato più familiare, profondo, decisivo per la nostra vita. In fondo è proprio un po' come nelle relazioni tra noi. Quando tu vuoi bene a una persona e la frequenti nel tempo, impari a conoscerla. E allora impari a cogliere il senso di uno sguardo, di un cenno, di una parola che un'altra persona dall'esterno difficilmente potrebbe cogliere. Al contempo, miei cari, c'è qui una chiamata alla crescita. Quante volte pretendiamo di racchiudere tutto nei nostri schemi? Quante volte rifiutiamo ciò che non riusciamo a capire appieno? Vedete, già nel quotidiano ci sono persone che pretendono di camminare solo su quelle strade già conosciute, perfettamente decifrabili. Spesso si tratta di persone purtroppo noiose, ripetitive, schematiche all'inverosimile. E c'è invece chi è disposto a lasciarsi stupire, a lasciarsi scombussolare, spiazzare dalle novità. Se ciò vale nel quotidiano, tanto più vale nella relazione con Dio. Se pensassimo di poter racchiudere il mistero di Dio solo nel nostro cervelletto, o se pensassimo che Dio ci debba dire solo quello che ci aspettiamo, o che le cose vadano come noi abbiamo programmato, staremmo freschi. Dio vede oltre, ci ama all'inverosimile e ci chiama a crescere. Questo ci invita a non scoraggiarci quando tutto non è chiaro, a non arrabbiarci e chiuderci nelle nostre mormorazioni quando le cose non vanno come avevamo pensato o quando non si risolvono subito. Questo è il tempo della fiducia, è il tempo dell'affidamento, è il tempo della relazione con Lui, della paziente crescita. Certi che Dio ci sta conducendo verso un bene più grande. Passiamo al secondo punto. Gesù continua il suo discorso parlando di sé come pane della vita. Fermiamoci su questa bella immagine. Il pane a che cosa ti richiama? Specialmente per noi occidentali richiama all'essenziale. Se uno ha fame, non cerca i manicaretti, ma del pane. Anche a livello figurato, un disoccupato cerca come portare il pane a casa. Come ci ha ricordato Papa Francesco, Gesù dicendo di essere il pane della vita, si rivela come l'essenziale, il necessario per la vita di ogni giorno. Senza di Lui la cosa non funziona. Non un pane tra tanti, ma il pane della vita. In altre parole, noi senza di Lui, più che vivere, vivacchiamo. Perché solo Lui ci nutre l'anima. Solo Lui ci perdona da quel male che da soli non riusciamo a superare. Solo Lui ci fa sentire amati anche se tutti ci deludono. Solo Lui ci dà la forza di amare, di perdonare nelle difficoltà. Solo Lui dà al cuore quella pace di cui si va in cerca. Solo Lui dà la vita per sempre quando la vita quaggiù finisce. Gesù è il pane essenziale della vita. Questo, miei cari, ci fa chiedere, posso dire che Gesù è davvero pane della mia vita? Che l'eucaristia è per me indispensabile? Che la sua parola è per me nutrimento quotidiano? Che la preghiera è il respiro della mia anima? Che il suo stile di vita orienta la mia vita? Non solo. Pensare a Gesù come pane di vita ci aiuta anche a chiederci. Se il pane della vita è Lui, non è che sto chiedendo ad altro di riempire la mia vita? Non è che sto chiedendo vita a ciò che vita non mi può dare? Facciamo qualche esempio. Quante volte chiediamo al cibo di riempire i nostri vuoti affettivi? O, non so, ai social di riempire i nostri vuoti relazionali? O alla carriera di riempire i nostri vuoti di autostima? Cioè corriamo un rischio. Chiedere la vita a ciò che non può dare la vita, ritrovandoci sempre più vuoti e sempre più schiavi. Peraltro noi tendiamo a portare fuori di noi ciò che abbiamo messo dentro di noi. Se io mi nutro di chiacchiere, rischierò di diffondere chiacchiere. Se mi nutro di banalità, rischierò di diffondere superficialità. Di contro, se ci nutriamo di parole belle, di amicizie edificanti, di letture nutrienti, potremo diffondere a noi tanta bellezza. Ora, Gesù dicendo di essere il pane della vita, ci ricorda che è lui l'essenziale per vivere. Ed è solo la relazione con lui che può saziare quella fame infinita che portiamo dentro. Possiamo chiamarla desiderio di felicità, di pienezza interiore, di pace. Per dirla con Santa Teresa d'Avila, solo Dio sazia. E più ci lasciamo saziare da lui, più possiamo vivere relazioni belle con gli altri e con le cose di questo mondo, non chiedendo loro quella vita che solo Dio ci può dare. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!